Musica 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 E' un giavarito sano, si intende a cantare a salita o chierezza E' un giavarito sano, ho chiesto a salutare con vera gentilezza A mila ore semmano, sovordato a cantare a mila ore semmano Con vera gentilezza, ho chiesto a salutare Nasa innao, chierezza poqueso a salutare a mila ore semmano Con vera gentilezza E' un giavarito sano, ho chiesto a salutare a mila ore semmano Con vera gentilezza, ho chiesto a salutare a mila ore semmano Con vera gentilezza, ho chiesto a salutare a mila ore semmano Con vera gentilezza, ho chiesto a salutare a mila ore semmano Con vera gentilezza, ho chiesto a salutare a mila ore semmano Con vera gentilezza, ho chiesto a salutare a mila ore semmano Con vera gentilezza, ho chiesto a salutare a mila ore semmano E' un giavarito a salutare a mila ore semmano E' un giavarito a salutare a mila ore semmano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti